Saluto a tutti gli amici di Radiospeaker Allora che dire, sicuramente il corso di conduzione radiofonica che ho fatto con te a Roma mi è servito Infatti adesso sto collaborando con Radiobussola24 che è la radio FM più importante della mia città Mi occupo di sport e soprattutto sto conducendo un programma che ho scritto da solo Quindi questa è una grandissima soddisfazione Un saluto ancora e grazie per tutti i consigli che mi ha dato e a presto